Siamo contenti, più interessati ci sono, soprattutto se sono italiani, meglio è. Dopodiché, come ho detto e ripetuto, bisogna essere molto accorti perché quello che conta sarà il progetto che il gruppo venderà in campo. E lì, diciamo, bisogna fare una votazione molto attenta e rigorosa, nella speranza che appunto ThyssenKrupp voglia fare in modo che la cessione vada a un gruppo industriale che abbia un futuro, che abbia un progetto serio, credibile, che traguardi i prossimi 10 anni, 15 anni, in modo che possa dare anche alla città quelle garanzie di stabilità e di serenità anche a tutti i dipendenti della ThyssenKrupp che sono necessari dopo tanti anni purtroppo invece di incertezze.